Sembra una beffa, ma è la realtà. Slitta di nuovo, per la terza volta, l'apertura della nuova variante della statale 38 a Morbegno. Nella migliore delle ipotesi, i lavori, contrariamente alla data prevista dal 30 giugno, termineranno soltanto ad inizio agosto. Parola del comune morbegnese. Automobilisti e autotrasportatori, ancora una volta, dovranno mettersi il cuore in pace e pazientare altri mesi prima di poter transitare sulla nuova tangenziale. L'ennesimo ritardo di un'opera, dal costo di 220 milioni di euro che stanno al progetto, doveva essere aperta già lo scorso dicembre. Poi, il rinvio prima marzo e in seguito la promessa da parte di Anas di chiudere il cantiere entro giugno. Ma i giorni passano e il ritardo fa nuovamente notizia. La conferma arriva oggi dal geometra Francesco Bongio, consulente tecnico incaricato dal comune di Morbegno, di seguire lo stato di avanzamento del tratto di poco più di 9 chilometri, che consente di bypassare il centro di Morbegno, alleggerendo così il traffico pesante nella città del Bitto e facendo risparmiare minuti preziosi nei tempi di percorrenza. I lavori sul tracciato, che si sviluppa dallo svincolo di Ecosio a quello del Tartano, proseguiranno dunque per buona parte dell'estate. Attualmente si stanno allestendo gli impianti all'interno della galleria di Selva Piana, mentre all'esterno si sta procedendo con la realizzazione dei muri in terra armata. La prossima settimana invece inizierà l'allestimento del tappetino, ovvero l'ultimo strato della pavimentazione stradale. A seguire verrà predisposta la segnaletica orizzontale e la cartellonistica. Facendo previsioni ottimistiche, l'apertura potrebbe essere messa in calendario per settembre, ma visti i precedenti il condizionale è d'obbligo.